pollicioni verdi buonasera benvenuti mi è arrivato finalmente il mio giocattolino e quindi stavo tentando di fare la risoluzione sapete come si inizia la risoluzione del cubo di rubik si inizia creando una faccia con una croce solitamente in tutti i manuali c'è scritto che bisogna iniziare con il bianco io invece che sono controcorrente inizio con il rosso ma ad ogni modo il video di questa sera ovviamente la diretta di questa sera non parla e non vuole parlare del cubo di rubik in realtà è una diretta molto particolare nella quale daremo ampissimo spazio a tutte quante le vostre domande l'avevo promesso lunedì scorso che avremmo fatto aspettate che apro una chat la vostra chat dove leggo tutte le domande l'avevo promesso la volta scorsa che avrei fatto una chat dedicata in maniera particolare una chat una diretta dedicata in maniera particolare a voi a tutte quante le vostre domande e ho pensato bene di farlo questa sera lo facciamo questo lunedì perché secondo me la fase di fine primavera è in realtà una fase estremamente delicata è una fase estremamente delicata perché se ci pensi è l'ultimo periodo poi daremo una piccola interpretazione di questo è l'ultimo periodo la fine della primavera nella quale possiamo intervenire in maniera preventiva perché nel momento in cui le temperature si alzano non avremo più questa possibilità perché la pianta quando arriva l'estate quando arriva il caldo dell'estate va in quello stato nel quale si protegge nel quale diminuisce le sue attività vegetative e quindi è un periodo nel quale in buona sostanza i lavori che noi possiamo andare a fare nel prato hanno molta molta meno efficacia allora questa sera come faremo io adesso mi prendo solamente 5 minuti 10 minuti nel quale cercherò di spiegare quali sono le problematicità di questo fine primavera però lo farò in maniera molto breve perché vedo già tantissime domande e quindi vi ho promesso che questa diretta sarà una diretta che darà largo spazio a tutte le vostre domande e non voglio assolutamente venire meno a questa promessa allora due parole però sulla fine della primavera dobbiamo farlo vi ho detto un attimo fa che questa è la stagione e l'ultimo periodo per fare qualcosa in termini preventivi voi sapete che il metodo best prato per avere un bel prato la vera modalità seria per riuscire ad ottenere un prato che si mantiene bello sano forte tutto l'anno è solo ed esclusivamente quello di agire in prevenzione perché lo sai meglio di me che nel momento in cui un problema si è manifestato tu devi praticamente spendere il tuo tempo per andare a cercare di risolvere questo tipo di problema viceversa se agisci in prevenzione sei ancora in uno stato in cui il prato è sano e gli dai tutti i sistemi per rimanere sano dopo questo periodo quando cioè l'estate entra nel suo top quest'anno siamo particolarmente fortunati perché abbiamo una dilattazione della primavera significativa ovviamente io sto parlando soprattutto per il centro nord Italia so che sud Italia in alcune regioni il caldo anche quello più forte si è già fatto sentire ha già fatto capolino però qua da noi ad esempio oggi piove e ci sono adesso in questo preciso istante 23-24 gradi sono le tipiche condizioni di un centro primavera prima ho fatto una passeggiata nel prato qua fuori e ho trovato delle infestanti che non sono le infestanti estive ma sono le infestanti tipiche della fase di inizio metà primavera ho trovato la germinazione della poannua favorita sicuramente da questa persistenza di umidità e da queste piogge che stanno capitando in questi giorni ma poco male perché perché avere una primavera così dilatata ci permette di agire molto in prevenzione quindi dobbiamo considerare questa stagione questo periodo questo particolare anno particolarmente utile particolarmente interessante proprio perché ci dà la possibilità di fare tutto tutte le operazioni ma quali sono i problemi che bisogna affrontare che si manifestano più spesso nella fine della primavera guarda se mi segui da molto tempo se segui il canale di Besprato se sei iscritto al nostro canale youtube se non sei iscritto ti invito ovviamente a farlo adesso in questo preciso istante saprai che la metodica il metodo Besprato si basa su tre pilastri e sono anche i pilastri nei quali in questo periodo noi dobbiamo riflettere sono i pilastri della nostrizione sono i pilastri della stimolazione e sono i pilastri della protezione i problemi che solitamente si manifestano alla fine della primavera ci permettono se hai un occhio un po' attento di capire dove il nostro prato dove dobbiamo intervenire nel nostro prato solitamente in questa fase soprattutto in una stagione come quella di quest'anno i problemi che si manifestano lo vedremo probabilmente nelle domande che mi avete fatto sono riconducibili molto spesso a una scorretta attività di nutrizione proprio quando si manifesta una stagione così tanto dilatata come quella di quest'anno i problemi di mancanza di nutrizione si manifestano in molte maniere possiamo avere degli ingiallimenti diffusi possiamo avere una scarsa reattività del prato possiamo avere un prato che manifesta dei segnali di malattie tipiche da indebolimento tipiche da mancanza di azoto sono delle situazioni nelle quali il problema non è ancora manifestato nella sua forma più grave però bisogna fare la massima attenzione perché se trascuriamo questo tipo di problemi poi ce li ritroviamo tra pochi giorni tra poche settimane ancora più forti i problemi molto spesso li iniziamo a riconoscere iniziamo a capire perché appunto vi ho detto si manifesta un ingiallimento localizzato oppure diffuso si manifestano degli appassimenti mi sono arrivati in questi giorni alcuni email molto interessanti che mi piacerebbe tantissimo pubblicarvi nel quale si nota come ci siano delle idrorepellenze un occhio attento dovrebbe già imparare a conoscere la manifestazione di un'edrorepellenza un iniziale appassimento il prato cambia colore diventa un più scuro molto spesso adesso mi stanno arrivando delle fotografie di prati che hanno dei fenomeni di ingiallimento legate a delle marcescenze cioè delle situazioni in fondo nell'erba che un po' hanno macchie brune un po' hanno macchie nere un po' presentano delle situazioni di persistenza di umidità questi sono un classico sintomo di una stagione come quella di quest'anno in cui molto probabilmente con le tante piogge che ci sono succedute in alcune località i terreni sono riempiti d'acqua questo è un fattore positivo ma si è creata un po' di asfissia cioè una difficoltà di presenza di aria nel terreno quando si manifestano questo tipo di problemi la risposta che il prato dà è una difficoltà all'assorbimento nutritivo indebollimento generale quindi difficoltà congenica a eseguire la fotosintese corotidiana e quindi arrivo più facile di patologie fungine che sono quelle un po' più deboli diciamo non sono quelle un po' più gravi però se trascurate possono provocare dei grandi danni parlo delle ruggini parlo della puccina parlo della drexlera senza arrivare invece alle manifestazioni vere che secondo me non sono ancora arrivate che sono quelle della risotonia solani delle malattie fungine come il pizzium questo tipo di patologie che sono in grado veramente di rovinare il prato ed è una buona notizia questa perché abbiamo il tempo di fare tutto ricordatevi lo schema a tre punti del metodo besprato nutrizione, stimolazione, protezione protezione, antagonismo e induzione della resistenza stimolazione, biostimolazione e nutrizione che in questa stagione è potassica, azotata e anche dei microelementi comunque molto brevemente rispondendo alle domande tra un attimo affronteremo tutti questi argomenti quindi bando alle ciance abbiamo fatto dieci minuti di brevissima introduzione sono più eccitato da rispondere a tutte le vostre domande e quindi bando alle ciance e partiamo subito con salutare ovviamente le prime persone tipo Alessandro Castellanetta ciao Alessandro buonasera pollicione verde grazie per la passione mi scrive io salto i convenevoli vado alla sostanza perché vorrei riuscire a rispondere a quante più domande possibile questa sera ma se ho una zona del prato che soffre di ristagno mi fa sapere Alessandro o meglio di difficoltà a drenare la pioggia che sono due cose un po' diverse in che modo e quando intervenire? allora bellissima domanda Alessandro se noti che c'è una persistenza di umidità in questo periodo non ti devi preoccupare più di tanto perché sta pioendo tanto se però questa cosa si protrae nel tempo e tu riconosci di essere un comportamento abbastanza ripetitivo nel tuo prato tu puoi intervenire in due modi uno rapidamente adesso facendo ad esempio utilizzando gli agenti umettanti che sono questi prodotti che servono a far drenare meglio l'acqua li trovate ovviamente tutti quanti nei links qui sotto ma in www.bestprato.com e puoi anche fare degli interventi non troppo invasivi come ad esempio delle bucature piccole bucature nelle zone dove tu vedi che c'è una difficoltà di drenaggio molto spesso basta anche utilizzare una semplice forca molto appuntita e fare qua e là un po' di fori e utilizzare gli agenti umettanti la vera modificazione invece del tuo terreno la andrai a fare a settembre cioè dovrai aspettare che l'estate termini e andrai a fare una modificazione andando ad apportare delle sabbie silice e magari facendo delle operazioni di bucatura carottatura molto più importanti con tagli bassi eccetera in questo periodo dobbiamo evitare gli stress troppo forti al prato Matteo Balestrazzi ciao pollicioni sabato ho dato fighter per chi non sapesse il fighter è un bacillus subtilis è un protettivo dalle malattie fungine assieme ad always è lotato alla sera il temporale ha dilavato tutto in questo periodo fare trattamenti fogliari è impossibile sfrutterò la pioggia e darò trico cioè il tricoderma è una bellissima non è una domanda Matteo ma mi ha fatto molto piacere leggerla perché hai dato un condensato di saggezza effettivamente in questo periodo fare i trattamenti tipo fogliare è complicato io stesso ho fatto una nutrizione localizzata con prodotti azotureico l'help insieme all'always il sabato però mi è rimasto con quello che da lì a 12 ore ha più avuto per cui molto probabilmente l'efficacia di quel trattamento è diminuita possiamo switchare e fare degli trattamenti di altro tipo possiamo ad esempio come nel tuo caso sfruttare la pioggia stessa per fare un trattamento sempre di protezione perché il bacillus subtilis serve a proteggere il prato dai funghi patogeni dell'estate più calda quindi tipicamente il fighter serve a contrastare malattie come il pitium quindi le malattie in assoluto più cattive probabilmente Matteo è anche un po' troppo presto e madre natura con le sue piogge ti ha frenato nel momento giusto perché dare il bacillus subtilis adesso è quantomeno non del tutto inutile ma insomma è meglio aspettare proprio che arrivi veramente il caldo per utilizzare questi prodotti Francesco buonasera a tutti gli amici pollicioni verdi e buonasera capitano pollicione fabio capitano mi mancava allora se ne avevo letto bene mastro ma capitano pollicione verde è bella anche questa un consiglio vorrei fare domani always più protegge ok protegge è sempre tricoderma parliamo sempre di protezione a livello radicale dalle patologie fungine e fra tre giorni dare summer cake va bene come tempi allora direi assolutamente di sì tu sai Francesco che le mie buone pratiche vi consigliano ti consigliano di utilizzare sempre un po' di tempo tra un trattamento e l'altro sia che siano da un punto di vista teorico tu lo potresti fare non dico il giorno stesso ma anche sì quasi non ci sono delle motivazioni di fitotossicità di problemi di tipo agrotecnico però dobbiamo sempre considerare che noi stiamo facendo questi trattamenti a degli esseri viventi perché le piante sono degli esseri viventi che voi ne pensiate o meno e quindi dobbiamo dare ai nostri trattamenti il tempo cioè la pianta al trattamento di capire che cosa sta succedendo a fare di tante cose poi insomma anche le piante potrebbero andare un po' in confusione sempre meglio aspettare un po' di tempo il mio suggerimento è sempre quello di attendere un paio di giorni almeno ovviamente se invece devi farle perché vuoi sfruttare io stesso dovrò sfruttare il venerdì il sabato e la domenica il weekend ho fatto un trattamento il venerdì e un trattamento la domenica però sono casi limite se invece hai la possibilità di fare utilizzi un bel calendario ti scrivi nell'agenda che non ho qui nell'agenda di Besprata scrivi tutte quante le cose è meglio perché dai il tempo alla pianta di effettuare la sua fisiologia di effettuare il suo metabolismo di effettuare diciamo la sua assunzione di quello che tu gli stai dando a questo riguardo faccio un piccolissimo inciso prima di passare alla prossima domanda ho ripreso a rileggere questo meraviglioso libro ha solo un grandissimo difetto questo libro che è scritto piccolissimo io sto diventando orbo devo rifarmi gli occhiali in questo lockdown veramente non ho potuto rifarli e si intitola botanica per giardinieri vi ho lasciato il link nella descrizione perché è così bello perché in un linguaggio veramente semplicissimo ti parla di pistilli anterre ti spiega come funzionano le piante come si riproducono i fiori delle grammi cioè ti spiega veramente tutto con un linguaggio alla portata di tutti e nonostante che io studi in libri sono molto più complessi di questo mi è ripiaciuto ad andare a rileggere questo libro lo sto rileggendo adesso quando mi faccio io mi faccio un po' di pause intorno al metà pomeriggio di lavoro in realtà le pause di lavoro le faccio tornando un po' a leggere le cose perché vi ho citato questo libro perché in questo libro si riesce a capire tanto fa dei bellissimi riferimenti a se l'evoluzione delle piante sul fatto che le piante siano apparse prima c'erano i muschi le alghe le alghe che sono diventate muschi i muschi che sono diventate le felci le felci che sono diventate le ginnosperme e poi le angiosperme fa tutto questo processo di evoluzione delle piante pensate iniziato 250 milioni di anni fa dove veramente il concetto chiave è che le piante per evolversi non solo per evolversi ma anche per rimanere nel loro stato di salute hanno bisogno di tempo bisogna lasciare alla natura che suona il suo concerto amo ripetere io bene andiamo avanti Carmine Carmine Bello buonasera pollicione Carmine ciao Fabio tricco e difende si possono dare assieme allora anche in questo caso qua torno sull'argomento sono prodotti che hanno dei campi di azione diversi il tricoderma serve a difendere l'antagonismo dalle materie fungine la boviera bossiana il metarese umano isoplie contenuto all'interno di quel prodotto della botox che prende il nome di difende ce ne sono anche degli altri questo è uno ed è quello che sta utilizzando Carmine agisce invece sono dei veri propri predatori delle larve e degli insetti che si depositano nel fondo quindi come vedi hanno due target completamente diversi per questo motivo non c'è problema a farli lavorare in maniera diversa però anche qua il mio suggerimento è quello di fare un trattamento questa settimana e un trattamento la prossima settimana essendo poi Carmine due trattamenti di tipo fogliare radicale puoi utilizzare le piogge se piogge da te per sfruttare la pioggia per fare questo tipo di trattamento se non piove puoi utilizzare l'irrigazione del prato per portare in profondità questi prodotti perché sai che entrambi hanno bisogno di almeno una ventina di litri d'acqua per andare in quel tratto radicale sulle quali noi vogliamo che agiscano che sono le radici del prato che partono ovviamente da 2-3 centimetri fino ad arrivare a una ventina di centimetri Peppe Cifaldi salve Mastro Pollicione Verde buonasera a te Pollicione Verde cosa mi consigli per debellare insetti e zanzare nel prato abito in una zona vicino a un fiume ti ringrazio tantissimo Peppe di questa domanda perché ti faccio vedere dove l'ho messo sarà online eccolo qua guardate sarà online un nuovo articolo sul blog di Besprato penso per il prossimo weekend che parlerà proprio di questo tema dividiamo molto bene Peppe Peppe è un grandissimo amico che è un velista veramente numero uno Peppe che saluto grande Peppe allora dividiamo il problema delle zanzare in due degli insetti in due nel giardino perché ci sono gli insetti che sono nocivi per il giardino e ci sono gli insetti che sono nocivi per noi e sono due cose completamente diverse è vero che agendo sugli insetti nocivi per il giardino generalmente si agisce sulle larve sullo stato larvale ok quindi andendo ad uccidere o a limitare o a scoraggiare o allontanare le larve il deposito delle larve Bacillus Nuringensis Metarizum Anisoplie Bovera Bossiana cioè utilizzando prodotti esclusivamente naturali tu sai che quando fai le domande a Best Prato le risposte sono solo risposte di utilizzo di prodotti completamente naturali cioè dopo aver dato questi prodotti puoi andare a camminare nel prato rotolarti nel prato giocare con i tuoi figli nel prato mollare il tuo cane mollare il tuo gatto che non c'è nessun problema questa è la filosofia di Best Prato ed acqua noi non ci schiodiamo e spero che appreziate questo tipo di apporto però il problema delle zanzare va diviso in due secondo le zanzare sono nocive per il terreno e su questo dobbiamo lavorare ok uno dei tre aspetti vi dicevo prima protezione in realtà dalle malattie ma anche dagli insetti e quindi c'è lavorare su questo e si lavora sullo stato larvale e poi c'è invece la protezione per quanto riguarda noi anche qua da un punto di vista naturale lo spettro di prodotti che possiamo utilizzare sono tanti possiamo utilizzare dei piretri ad esempio dei prodotti a base di piretro trovi tutti questi prodotti anche in www.bestprato.com sono dei prodotti in questo caso che sono abbattenti quindi parliamo di insetticidi sono cruenti però se noi dobbiamo fare una cena con gli amici nel nostro prato il mio consiglio è prendere questo prodotto sono i prodotti concentrati sono dei filaconi così li distribuiamo li mescoliamo all'acqua e li diamo nella zona dove andremo poi a cenare a stare con gli amici hanno un potere abbattente che dura per 24 ore ovviamente vanno dati all'aperto e piretro quindi è un prodotto naturale però ovviamente se lo date al chiuso sono prodotti che si possono dare anche in casa ebbene buona norma comunque andare a fare un po' di arriesatura dell'ambiente poi ci sono dei prodotti più semplici ad esempio io quando vado in giardino a fare i lavori e so che vado magari nei giardini naturali a farli dove hai voglia di zanzare ce ne sono molte utilizzo ad esempio l'olio di neem l'olio di neem è un grande repellente e io mi spalmo proprio nella pelle poi ovviamente mi lascia la pelle un po' unta quindi hanno questo inconveniente però vi assicuro che le zanzare stanno a distanza e poi ci sono ovviamente dei prodotti tra l'altro molti di questi nuovi prodotti li troverete e li troverai in best prato prima di andare avanti alle vostre domande vi ricordo tutti quanti vedo 180 persone adesso collegate in questo momento qui ragazzi mettete un mi piace a queste dirette se vi piacciono non è solamente il mio ego che ve lo chiede è una maniera per premiare questi video cioè quando tu metti un pollice su clicchi nel pollice sotto il video qui adesso c'è il pulsante mi piace quando tu clicchi su questo pulsante che cosa succede google vede che siamo in diretta e poi quando queste video non saranno più in diretta vi fa vedere a delle persone che sono potenzialmente interessate come te a questi argomenti quindi in buona sostanza oltre che premiare il mio ego o l'ego di best prato oltre che a fare comunque promozione a best prato perché non posso fare l'ipocrita però se questi contenuti li trovi utili e se ci sono quasi 190 persone adesso collegate probabilmente il contenuto non è così stupido lo fa vedere ad altre persone che sono interessate a questo contenuto la figata di youtube è questa che quando tu premi un contenuto lui non è che lo fa vedere a tutti lo propone a delle persone che magari come te hanno giardino come te hanno dei problemi di zanzare come te devono dare il fighter come te devono dare le cose e trovano risoluzione dei loro problemi quindi quando ti chiedo il mi piace lo faccio sia per insomma promuovere l'attività che facciamo e sia anche per una buona insomma sappi che quando metti il mi piace è anche per una buona causa andiamo avanti allora Nicola Nicola Ambrosi ciao Nicola dopo aver dato ELP cioè gli acidi umici dihydralizzati scusa l'azoturreico l'ELP è un concime è lo stesso prodotto Nicola l'ELP e l'Holo che io ho dato venerdì quindi ti rispondo ciao Fabio dopo aver dato help fra una settimana posso continuare con pre-gade e poi pre-stress sto seguendo il metodo besprato guarda se segui il metodo besprato non sbaglierai mai e quello che stai facendo lo stai facendo perfettamente perché stai lasciando lassi di tempo stai utilizzando i prodotti corretti per quanto riguarda una nutrizione di tipo fogliare per quanto riguarda un sostegno per quanto riguarda l'induzione di resistenza e la capacità anti-stress delle algebrone quindi complimenti Nicola stai facendo tutte le cose perfettamente e complimenti sono doppi perché stai lasciando tempo tra un trattamento e l'altro bene andiamo avanti passiamo a Sabrina buonasera Sabrina ciao pollicciona verde la settimana scorsa in un live hai consigliato di ridare si strong perché lo continua a pioggia brava Sabrina molto attenta molto molto attenta diamo comunque anche tricco insieme ad always e pregate come hai scritto nella newsletter ovviamente Sabrina io non voglio passare per quello che vi dice di far tutto che vuole vendere tutto che vuole andate a comprare i prodotti non è questa la mia intenzione però mi piace molto la tua domanda perché mette il punto su un accento il si strong è un rende il prato più resistente da un punto di vista meccanico solitamente rende la foglia più turgida rende la parete più coriacea più robusta e quindi più difficilmente attaccabile anche delle patologie fungine allora se tu mi chiedi devo fare tutto io ti dico no non serve fare tutto se tu mi dici faccio di più faccio un doppio trattamento con il si strong oppure faccio il pre-gade beh io ti dico non ci piove il pre-gade tutta la vita cioè piuttosto che non fare il pre-gade e fare il si strong due volte è meglio lasciare in parte il si strong la seconda volta e fare il pre-gade questo lo devi mettere sempre in relazione alle condizioni del tuo prato se tu noti ad esempio tenete bene a mente quello che vi sto dicendo adesso se notate che c'è tanto sfilacciamento del prato probabilmente il secondo trattamento con il si strong andrebbe fatto perché lo sfilacciamento cioè la fibrosità l'acquosità delle strutture vegetali viene diciamo tamponata anche se con le piogge questo è sempre complicato proprio dall'utilizzo degli ossidi di silicio degli ossidi di calcio però in questo caso degli ossidi di silicio Massimiliano oh vi ricordo questa sera una domanda solo perché adesso vado via anche un po' più veloce perché allora salve a tutti conosco da pochissimo questa interessantissima chat complimenti anche se alcuni termini per me sono arabo tranquilla studierò nel libro che mi arriva vi ho lasciato anche il libro del metodo besprato nel link in descrizione tranquillo Massimiliano vedrai che pian pianino mi scuso anche perché sai io do per scontato che le persone magari invece vedono il video grazie grazie adesso starò più attento ai termini che uso ciao Mastro Policione Verde dopo tutta quest'acqua di questi giorni cosa mi consigli per un prato perennemente all'ombra dare help o pre-stress considerando che ho già fatto always non ti dico di dare help ti dico di fare la concimazione potassica e piuttosto fai un trattamento in più con il pre-stress andare a dare dell'azoto andare a spingere con l'azoto nelle zone ad ombra serve poco ok piuttosto fai le concimazioni potassiche Renato posso dare contemporaneamente si strong ed help no 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 gli ossidi di silicio ragazzi dateli da solo ok allora Riccardo in questi giorni delle biostimulazioni ma rimando il tutto verso fine settimana visto le previsioni in me ti capisco benissimo Emanuele ho dato il protegge cioè il tricoderma a maggio quando lo posso ripetere considera sempre 4 settimane alla fine del trattamento devo accendere l'impianto di irrigazione se si quanti litri per metro quadro bella domanda Emanuele è un trattamento assolutamente radicale quanti litri se non piove vanno dati almeno 10 15 io suggerisco sempre 20 litri per metro quadro Franco Antico ciao Fabio che ne pensi nelle giornate primaverili piovosi come adesso di una concimazione col solfato ammonico allora Franco penso che bisogna saper utilizzare questi prodotti cioè adesso un errore col solfato ammonico per cui io non ne parlo preferisco non ne parlare se sei schillato fallo devi saperlo fare perché in alzamento delle temperature e sole brucia il prato ok solfato ammonico brucia il prato quindi massima attenzione quando si utilizzano dei prodotti così così verticali si dice in termini tecnici così così specifici ciao Fabio domande folle ho un po' di feltro areggiature e molli ho da pazzi ora ho una crescita lentissima seguo il metodo best prato da febbraio in tutti i passi in questi giorni ho dato help always allora Mirko grazie della domanda non è assolutamente una idea folle devi stare solo attento quindi uno non tagliare il prato basso due esegui solo esegui solo lo sfruttimento con le molle quindi non con i coltelli tre sii gentile nel senso che non fai i passaggi incrociati ovviamente devi avere un orizzonte poi cioè sapere che nelle prossime due settimane diavolo un po' quel rovinare che crea la reggiatura avviene la ripresa ma se lo fai oggi e abiti ad esempio da noi nei prossimi 6-7 giorni sono previste temperature sotto i 30 gradi e con anche delle piogge quindi condizioni nelle quali il prato può crescere Matteo ciao Fabio stamattina settimana scorsa ho dato trico oggi help settimana prossima do always a pregate fine mese consiglio di dare fight considerando che l'umidità notturna è abbastanza elevata allora la tua è una bella considerazione mi fa capire che capisci nel senso mi fa capire che capisci però ricordiamoci che fighter solitamente è proprio per le temperature vicino ai 30 gradi quindi fa il trattamento con fighter quando sai che si sta per manifestare questa situazione sicuramente diciamo con la prossima settimana secondo me è il trattamento giusto da fare ok allora Simone Franca Lanci ciao Fabio domenica ho dato always ai prati ma dopo circa 30 minuti è venuto un diluvio cosa devi fare devi ripetere il trattamento Simone Luca ciao Fabio ho dato slowkey 20 giorni fa visto che ho una durata di 60 giorni sarebbe il caso di darlo anche a fine luglio crea problemi no non serve darlo a fine luglio Luca anche se ha una durata un po' limitata a fine luglio farai un'interreazione fogliare utilizzando azoti ureici e diciamo nutrizione fogliare abbastanza bilanciata per esempio con prodotti appunto come come l'ELP che alcuni nostri amici hanno già scritto di aver utilizzato figurati Antonella grazie a te di essere presente buonasera Fabio si possono mettere insieme Always e Pregrade assolutamente sì dopo l'applicazione devo irrigare assolutamente no sono prodotti fogliari nella descrizione di questa diretta ti ho messo proprio dei links di riepilogo dove troverai proprio il riepilogo scusate gioco di parole le modalità con cui si utilizzano i prodotti liquidi perché c'è spesso confusione quindi ho fatto un lunghissimo non è lungo un approfondito e preciso riepilogo di tutte di tutte queste ringhe considerazioni allora Roberto Zanini Fabio volevo un parere è meglio mescolare fighter con pre-stress oppure always allora visto il targeting cioè la temperatura alta è l'always cioè il suo il matrimonio perfetto è fighter con always ok pre-stress può sostituire always visto che tra le sue funzioni ci sono anche quelle di always allora diciamo che la risposta è sì nel senso che il pre-stress però è un diciamo attivatore metabolitico in maniera particolare che ha anche un potenziamento della fotosintesi di clorofeniana molto superiore all'always ok quindi solitamente il pre-stress viene dato prima della stagione estiva mentre l'always viene dato durante la stagione estiva allora buonasera Marc ciao massimiliano andiamo avanti ciao Fabio seguendo i vostri consigli di concimazione estiva raccomandata un basso dosaggio di fosforo ma dando il pre-gate che ne ha 30 unità è corretto grazie e complimenti per il canale sì Marco è corretto perché il fosforo presente nel fosfito di potassio non è quel fosforo lì cioè non è quel fosforo che fa il potenziamento dello sviluppo radicale dell'esaltatore dello sviluppo radicale della prima fase di crescita di una pianta per cui vai tranquillo che non stimola le infestanti zanzari in giardino Massimo Scacchetti consiglio olio di neem piretro bacillus thuringiensis le tavolette di culinex che trovate finalmente in vesprato da mettere dove c'è un po' di ristagno d'acqua da mettere nei sottovasi da mettere magari nelle caditoie nelle caditoie delle grondaie perché le zanzare sono frutto delle larve e le larve dove ci sono le uova ecco lì bisogna andare ad agire in maniera biotica e contrastare questo problema poi avremo un modo magari nell'estate anche di parlare degli amici pipistrelli perché tra di voi gli dice qualcosa questo argomento andiamo avanti andiamo avanti ancora ultime due domande due o tre domande allora ne vedo tantissime però ragazzi quello veramente tante tante ne ho saltate ne ho saltate dovremmo fare queste dirette di risposta che durano allora purtroppo ne ho saltate perché qua ce ne avete fatte troppe ragazzi allora niente mi tocca ripartire da zero ah eccolo qua ho un prato di festucano di nacea niente male sono spuntati molti funghi allora quei funghetti che vedi non sono un problema non ti preoccupare togli via se vuoi con la mano ma Luca non rappresentano un problema Andrea smecca ciao Fabio oggi bigor liquid domani pensavo di dare finalmente summer cake arrivato oggi quando mi consigli di fare trattamento fogliare pre-grade più pre-stress dato che darò summer cake domani secondo me è il prossimo weekend se vuoi anche separali dai non so il pre-grade questo il prossimo weekend è il pre-stress e l'altro ancora grazie Andrea sei un mito mi scrivi il mio prato è molto bello grazie a te insomma grazie a tutti a tutto perché dietro di me ci sono io ovviamente come tecnico però tutte le mie nozioni derivano anche da un team c'è un team tecnico di Besprato vabbè comunque ti ringrazio di complimenti secondo me si tratta di troppa sostanza organica presente sì esattamente Luca significa che sotto c'è una sostanza organica non correttamente umificata generalmente potrebbero essersi ceppai e radici cose di questo tipo oppure una sostanza organica molto presente unita a una persistenza di umidità non mi è chiaro quanto tempo deve passare tra un trattamento e l'altro ti do delle indicazioni che però sono delle indicazioni così di buon senso tre giorni minimo una settimana se vuoi dare se vuoi far respirare le cose shield si può dare anche in questo mese assolutamente sì shield lo puoi dare se non l'hai dato in questo mese perché perché abbiamo un giugno fresco quando le temperature si alza mollano quel prodotto ok Stefano ciao Mastro sono a Roma ho dato il 26 summer cake poi dato pregate domenica water plus e trico ora qualche ingiallimento vorrei dare help sarebbe meglio cocktail con press stress invece che con always allora no dallo con always allora state attenti su questi ingiallimenti un po' diffusi perché in realtà potrebbero essere un po' di carenze nutritive potrebbero anche essere dei fenomeni di asfissia dovuti al forte la forte presenza di pioggia ecco per combattere questa cosa qui una cosa che farò io domani un trattamento che farò io domani è proprio un agendo umettante cioè passerò nel prato water x perché voglio che dreni via l'acqua perché probabilmente c'è mancanza di aria a livello radicale quindi domani faremo water x ok magari farò una piccola diretta e ve lo spiegherò ragazzi siamo andati lunghi però abbiamo fatto risposto a tante domande ne rispondiamo ancora a due o tre Matteo se in casa il protegge il tricco posso tentare di usarlo per i trattamenti estivi rischio di fallire i trattamenti no guarda lo fai bene con una stagione come questo tipo il fighter possiamo tranquillamente posticiparlo continua a fare colonizzazione di tricoderma e utilizza se possibile il pregate quando arriva il caldo se non hai il fighter il pregate costa molto meno e quindi va bene moreno oggi ho dato cocktail di pre-stress alghe brune con il fosfito di potassio e dopo tre ore ha fatto 15 minuti di pioggia devo darlo nuovamente sì magari non dare il pre-stress ma dai solamente il pre-gate domani ok quindi il pre-stress è finito nel terreno fa comunque il suo effetto il pre-gate invece ridallo allora ho fatto rissemina a fine aprile Adriana ho seguito le concimazioni e le bisturimazioni che dicevi manca la concimazione di primavera passo help una volta al mese in estate sì cioè la concimazione potassica la dovresti fare Adriana cioè utilizzare Summer K lo Slow K o un concimio potassico anche di altre marche però secondo me è una cosa che è suggerito domanda i prodotti liquidi hanno una scadenza allora Giampiero chiusi o aperti chiusi no come minimo insomma due tre anni aperti dipende a quant'aria ha presa io solitamente consiglio di non fargli superare una stagione e mezza cioè utilizzare adesso i prodotti al massimo del non della primavera scorsa dell'autunno scorso un anno e mezzo secondo me bene chiusi in luogo asciutto in luogo non colpito dal sole ok non troppo caldo possono resistere Fabio Giada è spettacolare non me l'aspettavo ci spieghi come mai ci sono loietti idonei per esposizione solare e loietti che vengono usati per prati all'ombra allora la parte bella Francesco di Giada che vedi in realtà non è loietto ma è la festuca fina per cui loietto colonizza la parte del sole e la festuca colonizza la parte all'ombra comunque ci sono loietti che hanno una abilità a resistere nelle situazioni di lombra superiori rispetto ad altri dai ultime veramente ultime due domande Francesco Andreazza è ripartita la pioggia ahimè scusa la domanda magari è ridondante ma mi potresti dire quando è meglio usare Pre-Gade Help e Green Up dopo questo periodo di acqua intensa allora Francesco Green Up lascia lo stare utilizza solo l'Help l'Help quando la pioggia è terminata e la settimana dopo sempre la pioggia è terminata il Pre-Gade sono prodotti da dare sempre su foglia asciutta ciao Mattia domani volevo dare il tricoderma in un giardino di 150 metri quadri mi può bastare diluirlo in 10 litri d'acqua è un po' tirato ma non è un problema perché? perché dopo il tricoderma lo devi devi fare andare l'impianto di irrigazione se riesci a dare il tricoderma in 10 litri d'acqua su 150 metri dallo però poi fai andare l'impianto di irrigazione il giusto sarebbe no 15 litri d'acqua o 12 litri d'acqua posso dare pre-Gade a dicembre gennaio febbraio no perché sono mesi nei quali il fosfitto di potassio fondamentalmente non serve e non viene assorbito generalmente sono mesi nei quali si lavora soprattutto da un punto di vista giampiero radicale dopo summer cake sette giorni fra quanto always compreghe grazie buona serata allora sette giorni è il tempo giusto secondo me di lasciare respirare madre natura allora ragazzi 42 minuti abbiamo fatto una diretta un po' più lunga del solito però avevo detto che avrei dedicato tutta una diretta e quindi mezz'ora alle vostre domande ho dedicato esattamente non 42 minuti perché avevo aperto con 10 minuti un po' di introduzione quindi abbiamo fatto 30 minuti di risposta alle vostre domande mi scuso con tutte quelle successive vede che ce ne sono altrettante magari le più interessanti o coloro i quali magari coloro i quali a queste non hanno ricevuto una risposta tra le risposte che ho dato perché molte magari saranno domande abbastanza simili e nel frattempo ho già risposto vi suggerisco di scriverle nei commenti non nella chat ma nei commenti di questo video ok quindi l'invito ancora una volta è quello di mettere un mi piace al video se ti è piaciuto ti ricordo elemento importantissimo non ti dimenticare fallo lascia il tuo commento se hai magari una domanda a cui non ho risposto che è particolarmente interessante che magari potrebbe essere utile a più persone ovviamente se non sei iscritto al canale youtube il momento di farlo è adesso allora ragazzi concludo il video dandovi tre importanti notizie allora la prima notizia è che il nostro canale Telegram abbiamo superato i 1100 iscritti stiamo raggiungendo 1200 iscritti quindi se non sei iscritto al canale Telegram fallo assolutamente la seconda notizia è che entro diciamo nei prossimi giorni metteremo online un articolo dedicato a tutti i problemi delle zanzari in giardino sia dei problemi relativamente per il prato sia dei problemi per l'uomo e la terza importante notizia è che mercoledì ci sarà una newsletter dedicata a quelli che sono gli errori assolutamente da evitare prima dell'estate nel prato quindi pollicioni verdi come vedete argomenti non mancano mai risposte spero che vi siano state quanto meno utili ci vediamo ovviamente lunedì prossimo per un'altra diretta di approfondimento sui temi del nostro amato tappetto erboso pollicioni verdi buonasera a tutti voi grazie a tutti